Un cordiale saluto da Raffaele Laricchia, ben ritrovati all'appuntamento con Meteo. L'alta pressione è tornata a dominare su tutto il Mediterraneo centrale e sta regalando cieli sereni in quest'ora e su tutta la nostra penisola. A ovest, tra Francia e Spagna, notiamo una perturbazione atlantica che per il momento non minaccia la nostra penisola, però potrebbe portare nel weekend, tra domenica e anche lunedì, qualche nuova in più, anche qualche equazione temporale, soprattutto sulle regioni del centro e del nord-ovest, però di questo ne parleremo meglio nei prossimi giorni. A seguire altre possibilità da ovest, delle incursioni atlantiche che potrebbero generare instabilità sul nord Italia, tempo più stabile invece al sud, nella terza rega di marzo. Per quanto riguarda questo sabato, una giornata stabile praticamente su tutta la penisola, dominio pressoché totale del sole. Qualche nube alte in arrivo al nord-ovest, in Sardegna, senza piogge. Venti debolissimi a regime di brezza e le temperature che tenderanno a salire e riportarsi localmente di sopra delle medie del periodo. Avremo picchi di 18-19 gradi, soprattutto sui versanti tirrenici, clima gradevole anche in Val Padana, sulle isole maggiori, anche sulle regioni adriatiche dopo il freddo degli ultimi giorni. Con questo concluso ci rivediamo nel prossimo appuntamento.